Il commercio online è in fortissima crescita e ormai è facile ordinare di tutto e da tutto il mondo, le spedizioni sono generalmente rapide, ma ancora esistono delle eccezioni e ciò che è capitato a Sophie Grantman ha davvero dell'incredibile. La donna infatti aveva comprato un paio di scarpe per suo figlio Alex, ma quando è andata ad aprire la scatola si è trovata di fronte a qualcosa che proprio non aveva ordinato. Come riporta il Daily Mail, oltre alle calzature, nella scatola aperta per correttezza di fronte al postino, c'era anche un vibratore acceso e per giunta con qualche pelo pubblico sparso qua e là nella scatola, uno spettacolo inaspettato per la donna che ovviamente si è rifiutata di toccare il bollente omaggio in azione e ha sbrigato in men che non si dica le pratiche per restituire la merce. La signora è stata prontamente risarcita delle sue 24 sterline, ma il portavoce dell'azienda di e-commerce ha specificato che per quanto riguarda il sex toy, data la natura del prodotto in questione, non è necessaria la restituzione, potete tenerlo o rivenderlo a vostro piacimento, le ha detto.